14.600 guerre, in 5.600 anni di storia scritta, 14.600 guerre. Prima guerra mondiale, 1914, l'Austria dichiara guerra alla Serbia, la Russia, alleata con la Serbia, dichiara guerra all'Austria, alleata con l'impero ottomano e con la Germania, che dichiarano guerra alla Russia, alleata con Francia e Inghilterra. Sembra risico. Anzi, uno stupido risico. Seconda guerra mondiale, i più preparati sono i tedeschi, muscoli tonici ed elastici. Blitzkrieg! La Germania ha le armi migliori, soldate migliori, generali migliori e infatti perde. Perché ha le idee peggio. Mauthausen, c'è una nazione civilizzata che non sia capace di tanto? Il 6 agosto 1945, alle ore 8 e 16, su Hiroshima, cade Little Boy! Un equilibrio del terrore! Vietnam! La prima guerra in tv! Attenti! Caramani! M'hanno mandato in Iran! Spiaccio la pedaliera, inclino la gloss, di più, di più, di più! Le due torri mi si avventano contro e ci passo in mezzo senza sfiorarle, sono vivo! Ma l'11 settembre del 2001, le cose andarono molto diversamente. Con tutti i soldi spesi in armi, mine, missili, si poteva comprare l'intero Afghanistan e farne un giardino. Ma allora che l'ho fatta a faio sta guerra? Mi sento uno stupido! Uno scemo di guerra! Uno scemo di guerra